Siamo con Fabiana Quilotti, direttamente da Gravina di Catania, qui alla terza edizione di Trinacrea in Danza. Che emozione è per te e per i tuoi ragazzi partecipare a questo concorso? Grazie, salve a tutti. È un'emozione bellissima. Partecipare ai concorsi è sempre un momento di crescita e di formazione. Quindi sono sempre esperienze positive da fare. È bello ritornare sul palco e soprattutto vedere un teatro gremito a vedere l'esibizione dei tuoi allievi. Assolutamente sì, è una bellissima emozione. Bello, bello davvero. Troppo bello per esserci io sul palco con l'ho. In una sola parola cos'è per te la danza? Vita, una sola e vita.